Presidente, una provincia è quella di Agrigento che sul campo letterario è sicuramente una delle più floride d'Italia? Le presenze del professore Lauretta, del professore Pasquale Amel, del professore Vitello, del professore Dorsi, di tanti illustri letterari che si sono spesi per la nostra provincia, fanno in modo da poter organizzare qualcosa di importante, che non abbia una risonanza localistica ma che abbia soprattutto una risonanza nazionale perché cose meno importanti, meno appariscenti come quelle che hanno i media, hanno i giornali che li sponsorizzano e diventano premi letterari importanti. Io ritengo che per le risorse letterarie, per le risorse umane che abbiamo nella nostra provincia, noi saremmo in grado di poter organizzare anche noi un evento importantissimo. Allora l'appello è che queste persone, questi scrittori, questi poeti, questi letterari, questi uomini della cultura ci mettiamo insieme con la politica, con la gente che vuole costruire e impiantiamo un programma, elaboriamo un programma dove possiamo creare le condizioni che ogni anno qui nella provincia venga ricordato qualcosa di importante, un premio importante. Oggi non è più il comune di Sant'Avita, ma è la provincia di Agrigento che si fa carico di un evento molto serio e importante che può essere di aiuto a quella che è la ricerca di uno sviluppo di quello che è il turismo. Voi pensate che la cultura è una delle tre gambe del turismo, quella del balneale, termale e culturale, allora ecco lì è importante. Ma una cosa sola vorrei dire, un appello vorrei lanciare agli agrigentini, comunque al nostro territorio. Cioè noi abbiamo i più grandi della letteratura del Novecento, Perandello, Sciascia, Tommaso Lampedusa, Camillere, anche un contemporaneo. Allora perché non fare quello che fanno gli altri, cioè di questo valore importante, oltre ai tempi, oltre a tutto il pagimonio dei vari comuni, di tutto il territorio con le proprie caratteristiche, fare un evento che possa essere la promozione e quindi la presentazione di un territorio e spronare a chi vuole venire nella nostra provincia di non fermarsi solo dentro il villaggio turistico, ma girare il mondo, la cultura, la tradizione e i prodotti tipici. Presidente, quanto c'è di Giuseppe Tommaso Lampedusa nelle opere di Orlando? C'è un processo artistico totalmente differente. Cioè Lampedusa è un uomo straordinariamente comunicativo come autore. Dà l'idea che la vita dopo tutto non ti è andata tanto male, ci sono dei momenti felici che si possono anche recuperare. Orlando invece è un autore negativo, indubbiamente. Io ritengo che Orlando, facendo un caso come Nietzsche, è un autore che si svilupperà nel tempo. Lui non sono dei saggi che scompaiono, ci sono dei saggisti che rimangono. E la traduzione, per esempio, anche tardiva di questa sua opera monumentale, e gli oggetti trasveti della letteratura, e l'interesse della grande cultura accademica mondiale per questo livello della ricerca.